Siracusa, 14 giugno 2024, giornata meravigliosa, come tante altre giornate meravigliose, che la nostra città spesso ha durante l'anno. Purtroppo c'è un po' di vento per cui probabilmente mi sentirete male, ma non è importante, quello che contano sono le immagini. Sono qui dove ho iniziato le prime visioni a 360 gradi con questa nuova tecnologia. Potrei oggi farvi vedere quello che già ci dovrebbe essere, ma di fatto ancora non è stato realizzato, ovvero nella parte, alla fine di questa muraglia, ci dovrebbe essere un solarium, ma ad oggi appunto non c'è. La nostra è una città meravigliosa, che godi di un clima molto bello tutto l'anno. Dico che il solarium potrebbe rimanere tutto l'anno, adesso utilizzato dai centinaia, migliaia di verifiche, che vengono qui da noi, però così purtroppo non è. Questo video dovrebbe servire ad apprezzare sempre più, sempre meglio, la nostra meravigliosa città. Purtroppo dove molte cose non vengono fatte bene. Mi dicono che l'azienda che ha preso l'appalto per fare solarium a un certo punto si è tirata indietro. Mi chiedo, mi domando, anche se sono appalti probabilmente non superando la soglia, adesso non so bene se era un appalto un affidamento diretto o un appalto a mezzo bando. Probabilmente l'ennesimo affidamento diretto. L'azienda ha fatto un passo indietro per cui siracusani e turisti si trovano a non avere un servizio. Purtroppo siamo in mano ad amministratori incapaci perché anche se è un affidamento diretto bisognerebbe chiamare la ditta e chiedere i danni, visto che c'è stato un ripensamento pare all'ultimo minuto, ripeto oggi è il 14 giugno e ancora. Domani il 15 giugno scadrà l'opportunità che abbiamo noi trovato per assumere fino a 20 bagnini come le norme prevedono. Io vorrei ricordare che i responsabili nel caso di incidenti senza le prescritte prevenzioni, ovvero il bagnino e il sindaco di Siracusa noi abbiamo trovato un fondo della regione siciliana dove è possibile chiedere le somme per assumere a tempo determinato dei bagnini, ovvero un'associazione che possa tutelare i cittadini e i turisti che vanno a usufruire del mare. Ovviamente parliamo di spiagge pubbliche e accesso al mare pubblico. Lo faranno mai entro domani, noi l'abbiamo sottoposto circa un mese fa. Speriamo lo facciano, ovviamente non lo faranno mai perché sarebbe come dire dare un certificato, una medaglia ad Alternativa Libera Siracusa, che è la nostra associazione politica che ambisce, speriamo è prima possibile, ad amministrare come dovrebbe la nostra e la diversa città. Con questa brezza marina purtroppo sono certo che non mi sentite ma non è importante. Vi do il codice attenzione di oggi che è 0607, si vincerà lunedì sera alle ore 20.15 una macchina della pressione messa a disposizione dal mio partner commercial. Chiudo la mia chiacchierata e vi lascio alle immagini. Grazie a tutti, grazie a tutti, grazie a tutti.